Il partito democratico di Ceglie Messapica si riorganizza in vista delle prossime scadenze elettorali. Il circolo di Ceglie era senza guida dalle dimissioni del segretario Pier Massimo Chirulli, rassegnate a causa di incompatibilità professionali. Per questo il neosegretario provinciale del PD, Francesco Rogoli, si è interessato della vicenda ed è stato nominato commissario Fabio Giorgino, già componente della segreteria regionale e provinciale del PD. Tanto da dove parte questa nuova avventura del partito democratico di Ceglie Messapica alla vigilia di una competizione elettorale importante, non solo per la città di Ceglie ma anche per la regione Puglia? Parte dall'insediamento della nuova segreteria provinciale che ha deciso di assumere subito un'iniziativa sul partito di questa città che veniva da un periodo di difficoltà e necessitava di essere riorganizzato. Da qui la decisione di concordare un percorso con il PD regionale che poi ha portato a questo commissariamento che, come ho detto poc'anzi, non significa privare dell'autonomia necessaria il gruppo dirigente che vorrà impegnarsi in questa città ma si tratta semplicemente di affiancare questo percorso per superare alcune difficoltà e riorganizzare il PD a Ceglie anche dopo le amministrative? Con un percorso indicato dalla segreteria regionale e dalla segreteria provinciale abbiamo deciso di offrire un supporto agli amici democratici cegliesi per riportare il partito democratico al centro della discussione politica di Ceglie. Ci muoveremo sia in vista delle amministrative dove saremo in campo in maniera molto chiara offrendo una proposta innovativa, rinnovata, credibile e alternativa a un centro destra che non si caratterizza più per i litigi che per i risultati e i successi amministrativi e dopodiché avvieremo la fase di congresso per dotare il PD di Ceglie e di tutti i suoi organismi e quindi quelli previsti dallo statuto. Saremo assolutamente impegnati per le amministrative e per rimettere al centro della discussione politica in città il PD. Vogliamo rappresentare l'area progressista e parlare a tutta la società cegliese.